Segui La7 anche su Instagram. La7 ovunque con te. Stanno praticamente circondando la Gaza City, ne abbiamo visti più in movimento, questo al momento si è fermato, ve l'ho detto, sono in corso le operazioni di fatto via terra, entrano ed escono, fanno varie incursioni, abbiamo assistito a vari bombardamenti ma quando sono arrivati i cararmati intorno a Gaza City, di fatto al confine, sono cessati e quindi probabilmente in questo momento si stanno riorganizzando. Grazie Elena Testi.